L'incidente nella serata di venerdì 24 febbraio, poco prima delle 19.30, è in Vietonengo a Mazzè. Una forfiesta condotta da un 44enne residente a Mazzè è uscita di strada e si è schiantata contro il muretto di una recinzione. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso, i vigili del fuoco di Livaro Lacanavese e i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso. Inutili purtroppo i tentativi di reanimare l'uomo, la dinamica del sinistro e il valio dei carabinieri.